Ciao a tutti sono Elisa e benvenuti in questo nuovo video Ci finalmente riparte la rubrica non solo shoujo classics Siccome non si parla sempre di shoujo come dice il titolo e vorrei precedere che il titolo è ironico perché molti l'hanno preso sul serio la stessa parola non solo shoujo classics dovrebbe far capire che comunque è un titolo abbastanza ironico che non tratterà solo cose classicissime appunto facendo questa premessa oggi parliamo di Nodame Cantabile Nodame Cantabile è un manga di Tomoko Ninomiya Chi è Tomoko Ninomiya? Sconosciutissima quando arrivò a casa Star Comics nel 2010 Tomoko Ninomiya è bravissima negli Giusei è bravissima a creare quelle storie assurde con una comicità puramente giapponese ma che in realtà non è così difficile da comprendere anche da noi occidentali è molto brava a fare quella comicità non tanto spinta, non tanto assurda che secondo me può essere nelle corti di molti Cantabile l'ho conosciuto appunto al settembre come c'è scritto nel 2010 così, indovinate come, guardando la copertina perché questa copertina è molto particolare se notate c'è Nodame, appunto la protagonista poi vi descriverò la trama che suona il pianoforte è particolare e mi ha colpito soprattutto mi hanno colpito soprattutto i colori perché questo arancio, questo rosso sapete che l'arancio comunque è il mio colore preferito e quindi mi ha colpito tantissimo mi ha colpito molto anche lo stile di disegno di cui poi ne parleremo in seguito storia di un ragazzo di Shinichi Chiaki che è un ragazzo molto promettente un ragazzo bravissimo al suonare il pianoforte e che vuole diventare direttore d'orchestra come il suo mentor e il suo maestro Sebastiano Viera il problema di Chiaki qual è? è un bravissimo studente e potrebbe arrivare a quell'obiettivo ma non riesce a superare l'angoscia di volare ha una paura folle di volare Chiaki frequenta il conservatorio Momogaoka e lì si sente talmente superiore rispetto agli altri che ogni persona che vede lo ritiene inferiore a lui stesso ritenendosi appunto a un livello superiore pur essendo bravissimo questa tipologia di atteggiamento crea molte antipatie verso Chiaki stesso mentre sta ascoltando comunque gli altri studenti che stanno facendo i loro brani ascolta per la prima volta un brano molto particolare eseguito in modo particolare il brano in questione era del secondo movimento della patetica di Beethoven eseguito appunto dalla nostra protagonista Megumi Noda la ditta Nodame Nodame è una ragazza che comunque di impatto quindi colpisce molto Chiaki in questo senso perché crea una sua esecuzione personalissima al brano e lo colpisce il problema di Nodame è che appunto lei si innamora di impatto di Chiaki e praticamente lo stalker ma la curiosità che ha Nodame è che lei riesce a seguire il brano ma non sa leggere gli spartiti musicali e per questo diventa un problema per Chiaki che vorrebbe ha quella sensazione di volerla istruire ma non ci riesce perché Nodame è fatta così Nodame è una ragazza molto estroversa ma molto disordinata molto trasandata sciatta infatti Chiaki e Nodame si scoprono vicini di casa e Chiaki molto spesso capita da Nodame e casa di Nodame è un macello perché c'è tutto per aria cioè lei non si lava molto spesso ha tutte le cose in disordine vestiti per terra la cucina non ve lo dico neanche Nodame è fatta così è disordinata trasandata non è la solita protagonista che penso in alcuni per esempio faccio un esempio in cura game che magari lei è bella però è trasandata Nodame è così rimarrà così per tutto l'arco dei 23 volumi che compongono l'opera più l'extra è il bello di questa serie cosa c'è di bello? che il fatto che questo rapporto tra Chiaki e Nodame pur essendo così distanti li completa perché Chiaki pian piano grazie all'aiuto di Nodame al suo estro al suo essere così espansiva cambia l'idea nei confronti anche delle altre persone comincerà a socializzare il rapporto con Nodame i scenici diventerà un'altra persona si completerà come direttore d'orchestra quindi come musicista ma anche personalmente diventerà un'altra persona e questo lo scoprirà pian piano e scoprirà che è stata proprio Nodame ad aiutarlo in questo senso non troveremo scene d'amore non troveremo frasi d'amore elevato oppure sbaciucchiamenti ma questo rapporto tra Nodame e Chiaki è un rapporto indissolubile che si evolve piano piano con il tempo ed è questa la meraviglia del manga di Tomokoninomiya perché con le gag e con frequentarsi spesso loro due si avvicineranno tantissimo Chiaki cerca sempre di allontanare Nodame per arrivare ai problemi che ha il fatto che sia trasandata il fatto che sia disordinata gli crea molti molti problemi quello che mi piace di Tomokoninomiya è il coraggio il coraggio di portare un manga così lungo perché sono 23 volumi non so in Giappone quanti siano comunque una serie abbastanza lunga parlando di un argomento che non spesso è molto interessante che è la musica classica o comunque parlare di Beethoven di Mozart delle varie sonate insomma è un argomento un po' tosto mentre Tomokoninomiya attraverso appunto il suo umorismo il suo essere comunque così capace di mettere questo argomento a disposizione di tutti noi che non conosciamo magari questo mondo ha creato un manga un'opera veramente deliziosa e godibile sia dal punto di vista culturale perché leggendo questo manga comunque scopriremo molti nomi importanti della musica e molti brani che magari vorremmo sentire perché attraverso il manga non si sentiranno vorremmo ascoltarli conoscere molti più autori musicali di musica classica e la particolarità anche di questa edizione che non so come sia quella giapponese è il fatto che Nodami è sempre in copertina ma ogni copertina in ogni copertina Nodami suona uno strumento diverso che non è sempre uno strumento che noi conosciamo ma è uno strumento anche particolare poi vi farò vedere una clip con le copertine perché meritano tantissimo il disegno di Tomocorino è un disegno veramente classico nel senso fatemi dire cos'è classico nel senso che ha la capacità di creare i volti tutti uguali che non ha uno stile definito non è molto particolareggiata non cura molto il dettaglio dello sfondo non usa i repini quindi è un un tipo di disegno che comunque magari non resta impresso per la bellezza ma vi assicuro che ogni personaggio secondario è ben caratterizzato e ve lo stampate nella testa per ogni sua caratteristica è fenomenale in questo e anche in Genius Family Company che è l'altra opera che è arrivata in Italia di Tomocorino Miya si configura molto bene ogni tipo di personaggio secondario qua ci sono personaggi di ogni tipo perché 23 volumi potete capire personaggi strambi personaggi caricatoriali sono tutti incentrati sull'umorismo molto spesso anche inconsciamente ma importanti per la storia stessa e per il rapporto tra Chiaki e Nodame è un manga veramente di impatto che non vi aspettate non è stato amato da tutti infatti è un manga molto ricco di musica quindi se non vi piace magari il tema non lo trovate interessante sicuramente non è un manga che fa per voi che è passato molto in sordina e che secondo me vale la pena recuperare per tanti motivi perché è uno Giusei di target appunto Giusei quindi per una fascia adulta di donne molto particolare e diversissimo dagli altri non ho trovato uno Giusei così particolare ancora perché molti Giusei appunto si basano più sulla storia sulle storie d'amore la storia d'amore non è fondamentale anzi si parla più di crescita personale dei due protagonisti ma anche di non riuscire a cambiare Nodame perché molto spesso ci ha che ci ha provato a cambiarla e anche lei stessa ha provato a cambiarsi ma non è detto che uno riesce a cambiarsi magari è bello per così com'è questo poi punta Nodame cantabile essere belli per ciò che si è Nodame non si cambierà durante tutto l'arco di 23 volumi rimarrà se stessa una disordinata e tutto il resto quindi trasandata e tutto il resto rimarrà sempre così ci saranno rari momenti in cui Nodame si prenderà cura di sé o comunque cercherà di accontentare diciamo o di migliorarsi ma di base i protagonisti rimarranno sempre gli stessi solo smusseranno gli angoli e diventeranno un po' meno rigidi riguardo le loro idee è quello che mi è piaciuto tantissimo di quest'opera che mi ha avvicinata tanto alla musica classica tanto agli strumenti cosa che io non avevo mai fatto perché non sono proprio portata per questo tipo legge di mondo e mi ha fatto conoscere tantissimo la musica classica devo dire che è stato un viaggio 23 volumi scorrevano che è una meraviglia i dialoghi non sono tantissimi ma quando ci sono si parla appunto di gag per esempio guardate non so se si vedrà ma è bellissima la faccia di Nodame io l'adoro questa donna adoro Nodame perché mi ci sento un po' Nodame anche se lei è molto più dotata di me e ha un talento innato per il pianoforte e per la musica in generale e veramente vi assicuro che è stata una scoperta meravigliosa che ho scoperto appunto per caso e devo dire che Star Comics è stata molto coraggiosa all'epoca a portare una serie così lunga di questa portata perché non è una serie che vende tanto e infatti non era una serie che ha venduto tanto però devo dire che pur non essendo una serie che ha venduto tanto ho visto che vi è rimasta molto nel cuore e comunque a molti è piaciuta e questo mi ha fatto veramente molto felice Sostanzano Nodame Cantabile è uno Giusei fantastico parla di musica parla di amore ma non è sdolcinato ha tutte le qualità che se uno non è non è proprio avvezzo ai Giusei per acquistarlo perché non è uno Giusei comune e se vi piace la musica tanto vale acquistarlo senza dubbio ho fatto fare questo video così senza un motivo particolare ma guardando spesso e volentieri la mia libreria e vedendolo qua sugli scaffali ho deciso di parlarvene perché mi sembra che sia giunto il momento non ve ne ho mai parlato e quello mi è dispiaciuto tanto sono veramente felice di averlo fatto spero che darete una possibilità o comunque di avervi incuriosito in qualche modo fammi sapere qui sotto se vi è piaciuto il video se vi ho incuriosito in qualche modo fatemi sapere tutto nei commenti nell'info box vi ricordo che ci sono tutti i linki ai miei social ora sarò anche su Woodreads mi raccomando seguitemi ve lo linko tutto qui sotto spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao